Ho presentato a catalogo aperto 2023 l'opera Naufragio come dire una sorta di scultura una sorta di opera pittorica ma anche come basso rilievo intanto ho dovuto creare il senso della prospettiva della lontananza da dove viene questo naufrago da dove arriva perché naufragio perché mi è sembrata di un'attualità tragica e nello stesso tempo qualcosa che io già profondamente sentivo grazie